Venezia 2 giugno, festa del 2 giugno, festa della Repubblica, avete visto, avete assistito al passaggio delle frecce di colori della parata? Ebbè sì, ovviamente, è stata un'emozione forte come ogni anno accade. Voi siete turisti qui? Noi sì, io sono di Napoli, anche lei. Sì, anche io, noi siamo comunque militari e quindi per noi è stato un piacere vederlo dal vivo, soprattutto perché per me è stata la prima volta. Quindi voi siete militari in questo momento, no? Sì, sì, siamo... Che militare sei? Esercito, esercito. Marina militare. Marina militare, state qui a Roma? Sì, sì, no, io sono venuta qui proprio per la parata del 2 giugno, ma faccio servizio altrove, alla Spezia. Alla Spezia, quindi in Liguria. Sì, 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 io sto qua a Roma. A Roma? Sì, sì, sto qua a Roma, nella caserma qua a Tiburtino. Ho capito, va bene. Allora, qualche altra cosa? Adesso che fate? Fate un giro? Sì, facciamo un giro al centro. Sì, sì, ho saputo che sono aperti i giardini del Quirinale, quindi probabilmente andremo a fare una visita. È vero, ci sono aperti i giardini del Quirinale che... Il Presidente della Repubblica. Il Presidente della Repubblica. Il Presidente della Repubblica, con la Boldrini, come l'anno scorso. Sì, sì, quindi sarà comunque una bella cosa, diciamo, da imperdibile. Benissimo, grazie per l'informazione. Ciao, grazie. Tanti auguri. Ciao, grazie.